In questa nuova puntata di Chiedilo ai Talents, la rubrica di WeWealth dedicata ad approfondire le principali novità legate al mondo fiscal e legal e del wealth management, continuiamo ad approfondire le novità introdotte dalla riforma fiscale, che come sappiamo ha iniziato il suo ITER nell'agosto del 2023. Nella puntata di oggi in particolare ci soffermiamo sul decreto legislativo 108 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 agosto, un decreto cosiddetto correttivo perché è andato a modificare il sistema, il regime di cooperative compliance. Cosa è cambiato? Quali sono i risvolti più significativi? Chi interessa? Lo chiediamo come sempre all'ospite che abbiamo qui con noi. Do quindi il benvenuto all'avvocato Fabio Ciani, name partner dello studio tributario internazionale Ciani Partners. Bentrovato! Grazie Chiara per l'invito, per l'ospitalità. È un tema ben noto a noi tributaristi e fiscalisti perché è una novità che non è una novità, è un rafforzamento di una disciplina che esisteva già nel 2015. Il legislatore ha fatto un'operazione di macchiaggio su questa normativa nel senso di aderire a diverse istanze che provenivano sia dall'accademia, sia dalla comunità scientifica nel senso di migliorare e di rendere più appetibile l'istituto. Quindi gli interventi modificativi in questo senso che sono stati introdotti all'interno della riforma fiscale vengono incontro a questa istanza, questa istanza di rafforzamento delle cautele all'interno di questo istituto. Ecco, andiamo con ordine perché dicevo che questo decreto legislativo è andato a modificare il sistema della cooperative compliance o se vogliamo chiamarlo in italiano addempimento collaborativo. Partiamo però dalle novità legate al Tax Control Framework, uno strumento strategico per le aziende che vogliono gestire il rischio fiscale aziendale. Con la riforma si parla di compliance assoluta preventiva che comporta una totale trasparenza per le aziende. Come cambia l'approccio delle imprese in base a questo sistema? È un controllo verticale interno che faranno in house le aziende sulla rischiosità fiscale dei propri comportamenti, delle proprie condotte. È un'azione preventiva, prodromica rispetto appunto ai comportamenti più rischiosi e al rischio proprio di vulnerabilità fiscale che le aziende si appresteranno quindi a fare. Il Tax Control Framework deve monitorare e vigilare questa variabile fiscale e le aziende dovranno mettere in evidenza in via preventiva nei confronti dell'amministrazione finanziaria la rischiosità fiscale di alcuni comportamenti perché diciamo quelli secondari verranno riassorbiti dal Tax Control Framework e quindi ci sarà una copertura e vedremo i profili sanzionatori. Invece i comportamenti più esposti, più rischiosi dovranno essere comunicati all'agenzia. Ecco, spieghiamolo magari a chi non è pratico del mestiere, in sostanza un insieme di regole, procedure, misure che servono a controllare e gestire il rischio. Esatto, la variabile fiscale ci sarà sicuramente anche una sorta di multilateralità nel senso che ci saranno più persone a presidio della funzione fiscale a servizio di questo meccanismo interno di vigilanza. Esatto, e questo meccanismo interno di vigilanza, aggiungiamo un dettaglio in più, è propedeutico all'entrata al regime della cooperative compliance. È un atteggiamento in qualche modo che sì, è propedeutico, ma la forza di questa, come dire, di questa vigilanza che è preventiva rispetto agli appuntamenti fiscali e alle scadenze fiscali. Cioè, prima di presentare dichiarazioni fiscali, io ometto nelle condizioni di amministrazione finanziaria di conoscere i profili di rischio che dovranno essere gestiti all'interno di esse. Fate queste premesse, entriamo nel dettaglio, perché la riforma fiscale introduce la possibilità per le piccole e medie imprese di aderire volontariamente al regime della cooperative compliance, che tradizionalmente era pensato per le grandi imprese. Quali benefici possono aspettarsi le PMI e quali le criticità, appunto, se pensiamo all'impegno che richiede la strutturazione di un sistema complesso come il Tax Control Framework? La vera novità della riforma fiscale è questa estensione della platea dei soggetti destinatari, in via volontaria ovviamente, dei destinatari di questo istituto. Per le PMI è uno sforzo organizzativo importante, un investimento in risorse, in capitali e bisogna creare ovviamente più funzioni di vigilanza del rischio fiscale, ma è una grande opportunità perché anche le PMI, in qualche modo facendo questa compliance dei loro comportamenti, avranno una serie di benefici a livello reputazionale, quindi nei confronti degli investitori, fornitori e clienti, nella misura in cui appunto hanno adottato, hanno preso, come dire, coscienza di questo tema e quindi dell'esigenza di in qualche modo manifestarsi all'amministrazione finanziaria sui loro comportamenti più virtuosi. Quando si parla di rischio fiscale, spesso emerge il concetto di evasione interpretativa, cioè quei casi in cui non è del tutto chiaro come si applica la norma. Le aziende come possono fare a ridurre i rischi derivanti da interpretazioni divergenti? L'evasione interpretativa è quest'area di confine, in qualche modo, fra la legalità e l'illegalità tributaria, quest'area grigia dove si annidano in qualche modo le interpretazioni libere di chi deve applicare e attuare a nome quindi fiscale. Solitamente il rischio interpretativo fino a ieri, ma anche oggi in futuro, perché la norma esiste all'atere della Coverture Compliance, era affidato all'istituto dell'interpello antiabuso, elusivo, cioè le imprese in qualche modo che dovevano soprattutto applicare delle norme che presentavano delle aree di interpretazioni nebulose legate soprattutto alle operazioni straordinarie, per esempio laddove si annidavano e si annidano in qualche modo i benefici fiscali, ricorrevano all'istituto e ricorreranno all'istituto dell'interpello antiabuso. Ecco, il Tart Control Framework con le sue declinazioni che abbiamo in qualche modo già anticipato, ci dà la possibilità di mettere sul tavolo in questa dialettica con l'amministrazione finanziaria proprio questi comportamenti che sono in una linea di confine e molto spesso si prestano a essere riqualificati dall'amministrazione finanziaria di chi controlla in senso ovviamente deteriore per lo stesso contribuente. Avvocato, con l'introduzione di questi nuovi decreti ci sono criticità a cui le imprese italiane devono fare attenzione per quanto riguarda la corretta applicazione dei principi contabili? Questo è un aspetto molto interessante perché la tassazione delle imprese si adagia sempre di più sui principi contabili, c'è il principio di derivazione rafforzata per cui, apro una chiosa, ne apriremo diverse, già all'interno della riforma fiscale c'è il proposito in qualche modo di ridurre i disallineamenti fra i principi contabili e la dichiarazione fiscale, ovvero le norme quindi fiscali, quindi c'è un appiattimento dei legislatori fiscali sui principi contabili, quindi comprenderà bene come noi dobbiamo in qualche modo vigilare in senso verticale anche sulla corretta applicazione dei principi contabili, perché i principi contabili entrano nella fiscalità d'impresa delle società, io le tasse le pago anche e soprattutto le imprese sui principi contabili, quindi è giusto in qualche modo presidiare la giusta osservazione rispetto dei principi contabili attraverso una funzione di rischio che l'istituto ci consente di fare. Passiamo ora a un altro tema delicato che è quello della gestione dell'IVA nei rapporti con gli esportatori, le nuove regole che disciplinano le dichiarazioni d'intento hanno portato maggiore chiarezza o complicano le procedure per le imprese? Sì, volendo fare una casistica dei rischi fiscali ai quali le imprese in qualche modo sono esposti, ecco in ambito IVA un tema soprattutto per chi opera con l'estero è il rilascio di queste dichiarazioni d'intento. La mia società, la mia impresa in qualche modo che si relaziona con soggetti esportatori abituali che quindi hanno questo benefit in quanto esportatori abituali, per poter godere di questo benefit ci sono una serie di impimenti. Ecco, molte volte abbiamo assistito proprio da fiscalisti come dire una sorta di corresponsabilità da parte delle nostre società che vendevano a questi soggetti che magari falsamente attestavano questo status di esportatore abituale oppure come dire attraverso manovre artefatte andavano a gonfiare lo stesso plafon sull'utilizzo di queste dichiarazioni d'intento. Ecco questo tema che ci ha visti troppo spesso coinvolti come controparti in buona fede di questi cessionari in malafede ovviamente con queste malefatte indotte insomma ci ha esposto a grossi rischi fiscali e quindi noi dobbiamo vigilare sulle nostre controparti e su questa carta che ci viene in qualche modo rilasciata dai nostri controparti perché dietro a quella carta ci sono dei comportamenti che possono essere poco ortodossi. Continuiamo a parlare di rischi fiscali perché ci piacerebbe sapere quali sono i rischi più comuni che emergono dall'analisi delle rettifiche extra contabili e dichiarative specialmente nel contesto della transfer pricing. Sì questo è un tema in qualche modo che riguarda ovviamente le imprese che operano operano con l'estero in tutte le transazioni fra gruppo si annida sempre come dire una tematica una tematica di transfer price ovvero una disciplina in qualche modo da rispettare sostanziale sulla giusta e corretta applicazione dei prezzi delle nostre quindi transazioni. Ecco quindi anche se il tema è la disciplina del transfer price che è monitorata da un istituto esonerativo il master file è tutto quello che c'è dietro ovviamente questo regime di esonero dei profili quindi sanzionatori ecco noi possiamo agire in senso qualche modo quindi rinforzato in sinergia con un master file attraverso il task control framework che potrebbe essere utilizzato come dire appunto in sinergia in interazione con un master file per evitare le conseguenze che possono derivare dalla riqualificazione delle transazioni intercompany. Avvocato vorrei affrontare con lei però una criticità legata al tax control framework per le piccole e medie imprese qual è il fatto che il beneficio della riduzione dei termini decadenziali del controllo fiscale non si applica alle PMI questo limite rischia di disincentivare la loro adesione al regime della cooperative compliance. Secondo lei quali normative sarebbero ospicabili per rendere questo regime accessibile e vantaggioso anche per questo segmento di attività produttive? Sì l'effetto premiale della riduzione dei termini decadenziali del controllo fiscale in qualche modo è previsto solamente diciamo per le grandi imprese che naturalmente fisiologicamente sono in questo regime della cooperative compliance. Le PMI sono escluse da questo benefit procedimentale che è un benefit molto importante perché come dire contribuisce alla certezza dei rapporti fiscali riducendo il timing e quindi la cronologia del controllo quindi fiscale. Basterebbe in qualche modo riallineare le posizioni perché io non vedo discriminazioni qualitative e soprattutto soggettive appunto fra grandi imprese e PMI che devono essere messe nelle stesse condizioni in qualche modo di poter beneficiare anche di questo effetto favorevole a livello procedimentale. E sempre a proposito di PMI c'è un'altra criticità che riguarda la mancanza di una previsione chiara per le comunicazioni di rischio. Questo cosa vuol dire? Questo obbliga le imprese e le piccole e medie aziende a presentare istanze di interpello che spesso non hanno costi indifferenti. Come potrebbe essere migliorata la normativa per agevolarle? Sì, non abbiamo compreso il perché di questa estensione anche alle PMI della comunicazione di rischio che è uno strumento equivalente all'interpello che però mi dà la possibilità di analizzare i profili fattuali, cosa che invece è esclusa dall'interpello perché è una questione di diritto, di principi di diritto. Quindi io attraverso l'interpello che devo comunicare in qualche modo, io PMI devo comunicare è un rischio fiscale, però paradossalmente io non posso entrare nella verticale della tipologia di questione controversa. Ecco, la comunicazione di rischio mi dà la possibilità di esaminare proprio il substrato fattuale dell'operazione che si vuole presidiare attraverso la comunicazione stessa di rischio. Ecco, un'estensione di questa possibilità, come dire, favorirebbe in qualche modo lo sviluppo di questo dialogo, di questa interazione con l'agenzia. Prima di chiudere affrontiamo il tema delle violazioni tributarie. Le nuove norme sembrano voler distinguere chiaramente tra i reati che nascono da un'infedele dichiarazione e quelli che invece derivano da una dichiarazione fraudolenta. In che modo questo impatta sulla qualificazione dei rischi fiscali e quando le violazioni vengono riassorbite nella compliance e invece resta aperta la possibilità di un procedimento penale. Sul tema extrafiscale, la risposta del legislatore rispetto a questo istituto è una risposta un po' frammentaria, deficitaria. Ci aspettavamo qualcosa di più da parte del legislatore. In che senso? Nel senso che la copertura sul versante penale extrafiscale riguarda solamente un'ipotesi di reato, l'ipotesi dell'infedele dichiarazione che sta nell'articolo 4 del decreto penale tributario. Limitatamente ha i componenti positivi, quindi sono inspiegabilmente in qualche modo mantenuti fuori da questo esimente, da questo regime di non ponibilità, le passività, i costi, considerando la puna chiusa in qualche modo che la maggior parte delle verifiche fiscali ovviamente si annidano sui costi, ovvero sul loro disconoscimento. L'impresa che entra in cova dei compliance o fa una comunicazione di rischio, deve fare attenzione su questi comportamenti che possono essere diversamente qualificati e possono restare fuori da questi regimi di protezione extrafiscale. Grazie, grazie mille Avvocato per quest'ampia e completa disamina sui cambiamenti apportati dal decreto legislativo dello scorso agosto su un importante regime come quello della adempimento collaborativo. Grazie mille. Grazie a te Chiara. E ovviamente grazie anche a voi per averci seguito, continuate a farlo, non dimenticate di mettere un like alla puntata se vi è piaciuta. Alla prossima, arrivederci.